Ciao a tutti ragazzi, sono Lucky e oggi come potete vedere ci troviamo qua sul nostro computer Infatti il tutorial che ho deciso di portarvi oggi sarà come craccare i movavi video Per chi non lo sapesse questo è un programma che ha molte funzioni Una di queste ad esempio è di registrare la vostra webcam Utilizzare la webcam del computer oppure di registrare lo schermo, di editare i video Diciamo a plurifunzioni Allora questo video qua mi è stato consigliato da Alessandro Bertelli Che appunto lo ringrazio, che non è il primo video che mi commenta e che mi consiglia Perciò mi raccomando continua così Allora non ho nient'altro da dire perciò via con il video Allora per prima cosa dovrete recarvi nel link che vi lascerò in descrizione Che vi condurrà questa pagina qua di Mediafire Vi premete ovviamente su download questo qua circondato di verde e in basso a sinistra appunto dovrebbe startarvi il download Ok perfetto, una volta terminato il download vi consiglio di trasportare appunto il file appena scaricato sul desktop Così che possiate accedervi molto più facilmente Ora premete tasto tasto sulla cartella che abbiamo appena trascinato e fate extract here oppure estrai qui Qua appunto comincerà l'estrazione che ci metterà davvero poco e poi vi troverete questa cartella qua sul vostro desktop Andate ad aprirle e poi premete su movavi video suite setup Qua comincerà appunto l'installazione del vostro programma Ovviamente qua premete su sì E appunto questa installazione qua richiederà diciamo 2-3 minuti Qua premete su ok, qua su avanti, qua su accetto le condizioni della licenza Poi ancora su avanti, avanti e installa Allora nel mio caso qua ha cominciato subito molto velocemente Ma nel corso del tempo appunto comincerà a rallentare come al solito di ogni installazione Ok perfetto, una volta terminata l'installazione vi si dovrebbero aprire delle pagine Ok perfetto, voi non fateci caso, chiudetele tutte mi raccomando Qua ad esempio premete su chiudere Qua sulla cosa in alto a destra E vi troverete questa pagina qua sul vostro desktop Quest'icona qua scusate Ma non andiamo ad aprirla per nessuna ragione poiché non è ancora craccata Per craccarlo dobbiamo andare ad aprire la cartella che abbiamo precedentemente estratto Doppio clic Andare poi sulla cartella chiamata Cracca e selezionare tutti i file al suo interno Copiarli Andare poi su disco locale Programmi per 86 E scorrere fino a trovare movavi video suite 12 Ok adesso premiamo tasto destro Incolla Fare sostituisci i file nella destinazione Qua fare clic sulla spuntina Esegui questa operazione per tutti gli elementi correnti E poi premere su continua Qua appunto comincerà a sostituire tutti i file Mi raccomando fate questo passaggio qua perchè è davvero molto importante Una volta terminata appunto questa sostituzione Possiamo chiudere tranquillamente la nostra cartella E andare ad aprirci il nostro movavi video suite 12 ovviamente Se tutto va bene qua si dovrebbe aprire senza alcun tipo di problema Ok perfetto Come potete vedere se vi si aprirà questa schermata qua senza alcun tipo di schermata appunto che vi dice di acquistare eccetera eccetera Il vostro programma sarà davvero crackato Ve lo assicuro Qua come potete vedere possiamo convertire i nostri file Diciamo acquisire lo schermo oppure il vostro video Puoi goderci il 3D quindi non so bene di cosa si tratti perchè questa applicazione qua non l'ho mai usata Penso registrare l'audio Puoi creare appunto dei video appunto con l'audio Puoi qua riprodurre ad esempio con l'MP3 eccetera eccetera Sempre convertire i file dell'audio Puoi qua i dati ad esempio scrivere un disco Sovrascrivere tutti i file all'interno di un disco Copiare i file Archivarli sempre in ambito musicale E poi qua nella sezione sfoto possiamo creare appunto delle presentazioni Quindi delle specie di video E condividerli appunto via email eccetera eccetera Perciò allora il video di oggi può concludersi qua Mi invito a lasciare un bel mi piace, un commento E soprattutto ad iscrivermi Mi raccomando ci tengo Ciao a tutti ragazzi E ciao a tutti ragazzi sono Laki Oggi con vi invito a vedere ci troviamo qua sul nostro computer Infatti il tutorial che ho deciso di portarvi oggi sarà come craccare i youtubers live Questo video qua mi è stato consigliato ancora da Marco Lorio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti